Ehi ragazzi, io sono Calla e ricevamo qui in una nuova top, però non sarà la solita top seria o più o meno Sarà una top strana che volevo fare da un po' di tempo e volevo divertirmi sia a farla che spero vi faccio divertire anche io con questa top Vabbè, detto questo, devi iniziare Alla quinta posizione abbiamo Scrafty Lui è il Pokémon furfante e quindi non poteva non far parte di questa top E si merita di diritto di entrare appunto nella top dei Pokémon più pischelletti Alla quarta posizione abbiamo Crocodile Anche il Pokémon minaccio non poteva non far parte di questa top Cioè, già lo immagino lui tutto spavato del tipo tu non fotti con Crocodile che entra in un negozio a chiedere il pizzo tipo mafiosi, ma grande Alla terza posizione abbiamo Dark Ray Ovviamente il legionario simbolo della notte è un pischelletto dark confermato Anche per la sua felicità base alla cattura di ben zero, che quindi lo rende ancora più dark Alla seconda posizione abbiamo Vanilux Vi starete chiedendo come mai Vanilux possa essere un membro della Dark Pro Gang Beh, pensateci, era fatto pure una canzone sopra Cioè, immaginatelo già mentre canta Alla prima posizione abbiamo il numero 777 del Pokédex Ed è appunto il numero 767 del Pokédex ad aggiudicarsi la prima posizione Ma adesso scopriamo chi è questo numero 777 Beh, si tratta di Togedemaru Sì, proprio lui, a vederlo non sembrerebbe Ma dentro di sé nasconde un cuore dark Basta vederlo in questa foto E niente ragazzi, spero che questa top un po' strana vi sia piaciuta Vi abbia fatto divertire, non so Io mi sono divertito a registrarla Voi fatemelo sapere con un commento qua sotto E appunto, se vi è piaciuto vi è piaciuto lasciare anche un bel pollice in su Commentate con il video che sono tutti i vostri amici Ma soprattutto, iscrivetevi al canale Per il prossimo video, ciao! Ciao!